Secondo me Draghi non parlava all'Italia, ma parlava al Consiglio Europeo, parlava alla BCE, parlava ovviamente alla Merkel. Stiamo parlando di una delle più grosse personalità a livello internazionale, sicuramente per quanto riguarda la crisi economica. Quindi questo era l'obiettivo. Dopodiché è stato immediatamente portato in mezzo a una discussione politica italiana, che secondo me non fa bene a Draghi, perché è chiaro che viene strumentalizzato da un lato e dall'altro. Aggiungo che il sostegno della Lega mi sembra un sostegno un po' confuso, visto che per esempio Draghi è quello che ha fatto il messo dell'OMT e la Lega fa una battaglia contro il messo dell'OMT. Cioè parliamo di strumenti per il salvataggio degli strati, strumenti diversi, sono le sue sigle con condizioni. Sotto Draghi BCE che è la battaglia che sta facendo la Lega contro. Qui la verità è che non rinunciamo a fare un teatrino abbastanza, se posso dirlo, indegno, in un momento in cui certo ci vorrebbe l'unità nazionale, ma ci vogliono le condizioni per l'unità nazionale. E le condizioni per l'unità nazionale sono la serietà dei comportamenti da un lato dell'opposizione, che fa proposte e deve fare proposte che siano praticabili, e dall'altro l'ascolto del governo che in questo momento non c'è. Le faccio due esempi banalissimi. Quando è uscito il provvedimento del governo, che era debolissimo, chiaramente debolissimo, io ho mandato una lettera a Gualtieri Acconti spiegando che quel meccanismo di cassa integrazione non avrebbe funzionato e che andava predisposto all'anticipazione bancaria. Ora, a voi può sembrare un argomento tecnico, non lo è, perché i lavoratori rischiano di non prenderla la cassa integrazione con questo meccanismo. è stato totalmente ignorato. Stessa cosa, fondo centrale di garanzia che deve garantire le imprese. È stato messo un miliardo e mezzo che è niente, è più o meno quello che abbiamo messo noi in una situazione di normalità, e sono procedure ancora complicatissime che vanno semplicissime. Allora, da un lato ci vuole l'ascolto da parte del governo, e dall'altro ci vuole un modo di fare opposizione, che non è quello di dire che quando Gualtieri dice 25, quelli dicono 50, poi quello dice 50, quello dice 75, 80, 90, 100, 150. Devi spiegare quali misure devi mettere. Allora, se queste condizioni si realizzano, e si realizzeranno perché la situazione sarà talmente drammatica che a un certo punto saranno tutti costretti, come posso dire, a smettere a piantarla con questo giochino ridicolo, ma ci vorrà del tempo, e allora a quel punto un governo Draghi sarebbe non auspicabile. Ci sarà un momento in cui probabilmente sarà inevitabile, che è un concetto diverso. Cioè dice il governo nella fase di una ricostruzione che ci sarà, non adesso. No, non adesso, in piena emergenza sanitaria, in un momento in cui le forze di posizione stanno strumentalizzando Draghi, con cui hanno avuto sempre a che dire, non parlo di Forza Italia ovviamente, parlo della Lega e Fratelli d'Italia, soprattutto la Lega lo sta strumentalizzando perché vuole far fuori Conte, è una roba che non si può vedere, cioè non c'è niente di serio rispetto alla situazione, alla situazione a quella che è. Quando si matureranno le condizioni ci vorrà un governo di ricostruzione di unità nazionale. Non c'è alcun dubbio, la persona migliore è Draghi, sicuramente, però bisogna farlo seriamente, perché se no altrimenti bruciamo l'unica personalità di livello internazionale che sì è capace di portare la Germania sulla posizione degli eurobond. Tiziana.